Ciao a tutti, bentornati sull'Antimetta, siamo il Lorenz e il Kerrobe. Oggi siamo qua con la prima modifica ai mazzi di Deliti al maniero Karlov. Il primo mazzo da modificare sarà il primo che avete visto, ovvero Ricognizione di Redi Vivi. Mazzo che andiamo a riprendere il comandante, il buon vecchio Mirko, comandante blu-nero, costa 3. 1-3 di Forza e Costituzione, cautela e volare. Ogni qualvolta sorvegliamo gli mettiamo un più uno più uno sopra e all'inizio della nostra fase finale possiamo tornare una carta a cratura dal cimitero con forza inferiore a quella di Mirko sul campo di battaglia naturalmente. Quindi quando quella cratura lascia il campo viene esiliata. Viene esiliata, questo è il buon Mirko, Obsessive Terrorist. Allora, prima modifica. Allora, abbiamo deciso di tirare fuori Epharas Dispersal, cioè, costa 3 istantaneo, magia che costa 2- se bersaglia una creatura attaccante e far tornare una creatura bersaglia in mano sul proprietario e ci fa sorvegliere 2. E' una carta molto buona, sinceramente. Però, essendo l'unica carta, mi sembra, del mazzo che bersaglia, quindi che può anche essere utilizzata sul nostro comandante, abbiamo deciso di tirarla fuori anche per mettere dentro qualcos'altro in seguito. Per comunque mettere dentro, ora, Criminal Past. Esatto, un background di Baldur's Gate, quindi è un incantesimo che, in questo caso, non starà nella zona di comando perché Mirko non ha background. Però, comunque, quando lo giochiamo, dice, le creature comandanti che controlliamo hanno minacciare e, quando questa creatura prende più x più 0, dove x è il numero di carte e creatura nel tuo cimitero. Quindi, ci fa attivare più velocemente l'effetto secondario di Mirko, cioè di farci tornare creature dal cimitero con un segno finale. E, comunque, se non è una comandante in più perché è minacciante, volare, cautela, diventa molto pericoloso il comandante. Sì, è super elusivo con volare e cautela. Si potenzia da solo, piano piano, ma con questo hai un power-up abbastanza immediato e efficace. Sì, anche perché ci sono due volanti se devono bloccare il nostro minacciante. E, in più, è forte il criminal past perché, se iniziano a farci fuori Mirko una o due volte, puoi ricreare un Mirko potente con i segnalini più e più, no? È difficile. Quindi, con questo, magari entri che hai già un po' di creature dal cimitero e entra che hai già magari un 5-3. Cioè, magari, anche se lo lanciamo a costo 7 dopo che ce l'hanno sconfitto già due volte, entra che, appunto, come dice, che roba è già un 5-3 e possiamo già rianimarci creature decenti. Sì, da un forza 4 o meno. Poi, abbiamo deciso di tirar fuori Lever Following e Calice, il calice con il Multi-Kicker 2, che costa 0, ma per ogni Multi-Kicker entra con un segnino addizionale. E ci aggiungerebbe mana in colore pari ai suoi segnalini di carica. Non è un mazzo che rampa molte terre, è vero. Questo potrebbe essere, magari, un negativo, a tirar via. Ma non riusciremo quasi mai a Multi-Kickerarlo più di due volte. Perché già Multi-Kicker 3 volte vuol dire spendere 6 mana e restare un turno, praticamente, intero tappato fuori. Visto che, cioè, almeno nell'ottica dell'utilizzo, nei primi round, ci tapperebbe fuori un turno intero. Quindi, lo tiriamo fuori per mettere dentro gli stivali piede lesto. Uno degli altri, infatti, preferiti da tutti i commanderisti. Costa 2 da equipaggiare a 1. La creatura equipaggiata ha antimalocchio e rapidità. Visto che non c'è niente nel mazzo che protegge il comandante, abbiamo deciso di mettere dentro questi. C'è giusto qualche counterino isolato. Sì, c'è qualcosa di isolato, ma il comandante non viene protetto granché in questo mazzo base. Quindi, visto che punta molto sul comandante, questo mazzo dobbiamo proteggerlo a tutti i costi. Quindi gli stivaletti, dove gli verranno messi, indosserà a Mirko gli stivali. Poi, tiriamo fuori il Grave Titan. Costa 6 di quei due neri. Tocco letale. Quando entra o attacca, creiamo due zombie token. Sì, insomma, è forte, però costa tanto. Essendo un mazzo che non rampa, avremo sempre un po' carenza di terra. Quindi, magie che costano tanto, abbiamo cercato di tirarne via qualcuna. E questa è una di quelle. Diciamo che ci sono tante creature grosse, perché l'idea del mazzo è mandarle al cimitero col sorvegliare e rianimarle con Mirko. Già, però arrivare a 7 di forza con Mirko non è una passeggiata. Quindi farlo tornare col segnino finale è abbastanza dura. È abbastanza dura. E comunque un 6-6 che ci fa due zombie, 2-2, non è così sconvolgente in una partita di commander. Al suo posto abbiamo messo il Soul Diviner, carta di guerra della scintilla. Costa 2, un blu, un nero, totale. Un 2-3. Lo tappi, togli un segnalino da un artefatto, una creatura, una terra, un planeswalker che controlli e peschi una carta. Questo qui, nell'emergenza, possiamo togliere i segnalini da Mirko per pescare. Esatto, però calculemo che non è Mirko l'unica creatura che si fa i segnalini da sola. Ci sono altre creature che possono potenziarsi col sorvegliare o in altri modi. Comunque pescare è un'abilità fortissima. E comunque, scusate, cosa che ci eravamo persi prima. Qui dice remove a counter, un counter. Quindi possiamo togliere anche il segnalino finale. Visto in quest'ottica è anche più forte. Banalmente ci eravamo persi. Proteggi anche le carte che non vorresti che venissero esiliate. Quindi, su quest'ottica, questa Soul Diviner diventa una delle sostituzioni più fondamentali di questo video. Assolutamente. Ci eravamo persi proprio counter, perché noi counter più uno più uno abbiamo detto. Ma sì, c'è Mirko che è una fonte di segnalini più uno più uno. Però Mirko è anche una fonte di segnalini finale. Togliendo il segno finale, la nostra creatura non verrebbe più esiliata se muore, ma torna al cimitero e potrebbe tornare ancora. Quindi, diciamo che magari si tirano i piedi all'estero e gli diamo al Soul Diviner. Esatto, in quel caso lì gli diamo al Soul Diviner. Poi, viene necessito di tirar fuori la Sfinge del secondo sole, un'altra creatura che costa tantissimo, costa 8, è un 6-6. Quindi, con volare, dici all'inizio della tua fase post-combattimento, c'hai un'altra fase di mantenimento. Quindi, stappo, mantengo, pesco. Però questo non implica un altro combat. C'è solamente la main phase 2. Che triggerano tutti gli effetti che si attivano al mantenimento. Non credo ci faccia triggerare tante cose, magari qualcosa che all'inizio del mantenimento ti fa sorvegliare, ma ci sono poche cose che ce l'hanno di base nel mazzo. Sì, diciamo che in questo mazzo qui non viene sfruttata a pieno questa Sfinge. Esatto. Quindi, visto che costa tanto e comunque l'effetto non è sfruttatissimo, l'abbiamo deciso di tirarla via. Al suo posto, Bridge the Multiverse. Da avanzate delle macchine, costa 7, di cui 2 neri. Ogni giocatore milla 10 carte. Così ci rientriamo anche un po' al cimitero per Mirko. Poi, per ogni giocatore, scegli una creatura o un Plainswalker nel cimitero di quel giocatore, metti quelle carte sul campo di battaglia sotto il tuo controllo. Poi le creature che controlli diventano un Firexian in aggiunta su altri tipi. Quindi, ok che costa comunque tanto, però uno in meno che la Sfinge. Quindi abbiamo guadagnato un mana. E' una delle poche carte grosse che rimarranno nel mazzo. No, ce ne sono. Ce ne sono, ma è una delle poche grosse adesso, perché ne abbiamo tolte abbastanza. Sì, diciamo che ne abbiamo calato il numero. E comunque questa viene sfruttata molto, molto di più dal comandante. Poi ci fa... metti che siamo in un multiplayer, quindi 4 giocatori. Allora, 3, 4 creature e le tiriamo in campo. Esatto, tiriamo in campo creature che ci danno potenziamenti o comunque fanno paranti o attaccanti. O ottimo in effetti. Comunque sì, nel senso ci costa tanto, ma ci dà potenzialmente tanto. Oltre a millare un po' anche gli avversari. Poi, nell'ottica dell'incantesimo che abbiamo messo, il background, questo ci va ad aumentare le creature. Quindi se c'è anche l'incantesimo del background in campo, il comandante diventa anche più forte. Sinergizza bene anche con Mirko in tutti i suoi punti di vista. Esatto. Poi, tiriamo fuori il Dream Eater. Un'altra Sfinge che costa 6. Con volare e flash, quando entra nel campo di battaglia sorveglia 4. Quando lo fai, puoi far tornare una creatura non terra, una permanente... Permanente, un permanente non terra che un avversario controlla in mano al suo proprietario. Ok, sì, sorvegliare 4 ci sta, ci è utile. Però ricordiamo che il segnalino su Mirko funziona ogni volta che sorvegli. Quindi se sorvegli 1 ne metti 1, se sorvegli 4 ne metti comunque 1. Dobbiamo puntare a sorvegliare magari più spesso, ma anche... Cioè, meno sorvegli come quantità, ma più spesso come frequenza. Quindi, visto che costa tanto, l'effetto comunque, vabbè, ci sta, sempre buono, però costa tanto. Cioè, in Commander 4-3 volante, ok che entra con il lampo, ok che sorvegli, ok che rimbalzi, cioè, non è scarsa come carta, ma... Essendo 4 di forza potrebbe anche entrare un po' più velocemente degli altri con il secondo effetto di Mirko, ma ci serve sorvegliare più frequentemente. Quindi abbiamo scelto di mettere dentro... The Grim Captain's Locker, direttamente dalla nuova Ixalan, dai mazzi Commander della nuova Ixalan. Costa 4, un artefatto leggendario che tappandolo sorvegliamo 1. Oppure tappandolo, fino al fine del turno, ogni creatura nel tuo cimitero ha fuga 4 e esiglia 4 carte dal tuo cimitero. Quindi, fuga dice, appunto, tappi 4 mani, esigli 4 altre carte dal cimitero, la lanci dal cimitero. Quindi, permette alle creature del nostro cimitero di essere rilanciate. Ma a noi che interessa, cioè, questo qui è il secondo tap, è un qualcosa in più. Il primo è quello che ci interessa, ovvero ogni turno sorvegliamo una volta in più, sicuramente. Esatto, quindi ci sta. Poi, nel caso che ci necessita, il secondo effetto è comunque molto forte. Esatto, se siamo per i capelli, dove ci serve rianimare qualcosa di cattiveria, possiamo fare il secondo effetto. E comunque, diciamo che è un sorvegliare sicuro, perché gli avversari che sprecano una rimozione per questo forziere, cioè, insomma, se vogliono farlo, meglio, insomma. Però non è così... Cioè, per noi è utile il giusto. Non è forte, sconvolgente, ma ha quell'utilità giusta per il nostro comandante. È fatto per il comandante, questo. Poi, viene deciso di tirar fuori una terra base, quindi un'isola. Non l'abbiamo scelto, ma andrebbe bene anche una palude per persone in pari numero. Sì, diciamo che abbiamo messo dentro parecchi neri, insomma. Comunque, giusto tanto, quello che mettiamo dentro è un'isola palude, quindi è solo per pensare un po' di più su... Non è che togliamo un blu, aggiungiamo un nero. Esatto. E quella che mettiamo dentro, come diceva Lori, è una doppia. Però, della nuova espansione. Le nuove doppie del maniero Karlov, che quando entra, entrano tappate, hanno il doppio tipo, e quando entrano, sorvegliamo uno. Quindi, qualcosa in più che sorveglia, giusto per mettere mano alle terre, che comunque sono già ben sistemate. Poi, tiriamo fuori il Copy Catchers. Costa 2, 2-1, volante. Ogni qualvolta sorvegli, puoi pagare un blu e un incolore in più, e se lo fai, crea un token che è una copia del Copy Chargers. Allora, a noi non è che interessi fare copie di lui, che fa copie di se stesso all'infinito, quasi, ma ci interessa sorvegliare. Perché ci serve mana per fare le sue copie, quindi non è che fa così. Esatto, è esoso. Non è che, ok. A lungo andare è esoso, ok? Fa la pedina che vola. Il volante è elusivo, ok. Però, noi dobbiamo sorvegliare, dobbiamo puntare a sorvegliare. E quindi lui che è un effetto secondario del sorvegliare, quindi lui si attiva quando sorvegli, non ti fa sorvegliare di sé. Quindi, via. Via. Al suo posto, una carta che ad oggi, sì, ad oggi noi stiamo registrando l'undici, questo video... L'undici febbraio. L'undici febbraio. Questo video lo vedrete probabilmente... Intorno al tredici, dodici, quattordici. Quattordici, insomma, questa settimana qua. Il ventitré febbraio uscirà Cluedo Ravnica Edition, che vi invitiamo, vi lasciamo magari in link in descrizione del preordine della Fantasia Store. E in questo nuovo set gioco da tavolo a tema Magic, che non abbiamo capito bene ancora che cos'è, ci saranno delle carte esclusive, tra cui il Dimir Stand Catcher. Dimir Stand Catcher, carta creatura, costo 4, di cui 2 mana libere di blu e neri, 3-3 volante, ogni volta attacchiamo, quindi anche non per forza con lui, sorvegliamo X, dove X è il numero di avversari che sono attaccati. E all'inizio di ogni sottofase finale, se 3 o più carte sono messe nel nostro cimitero, da qualsiasi zona che non sia il campo di battaglia, peschiamo una carta. Eh, già. Quindi è utile perché ci fa sorvegliare. Ed è utile perché ci fa anche pescare, potenzialmente. Sì. Cioè, sorvegliamo quasi sempre. Peschiamo, molto probabilmente, perché tra carte che vanno al cimitero con sorvegliare, istantaneo stregonerie che lanciamo, creature magari che perdiamo in battaglia, e il cimitero si riempie. E quindi ci peschiamo, perché se 3 carte vanno a me e 6 cimiteri... Sì, beh, dice, tra qualsiasi zona tranne che dal campo di battaglia. Ah, tranne che dal campo di battaglia. Creature che muoiono, no. No, quindi se lanciamo però una magia... Ah, no, no. Se la lanciamo passa per il campo di battaglia. In teoria si passa per il campo. Dei istantaneo stregonerie, sì, caspita. Devi... Oh, se sei in discard, però quello lo fai a fine turno. Però, insomma, punta più che altro sul sorvegliare. Se tu attacchi, tipo altre 3 giocatori, sorvegli 3, e già con quel sorvegli a 3 potresti buttare tutti e 3 al cimitero solo per pescare 1. Però dipende da quello che sorvegli. Diciamo che... Oh, riformuliamolo. È un po' più scarso di quello che pensavo. Beh, insomma, già che quando attacchi, sorvegli... Sì, ci fa sorvegliare parecchio. Ci fa sorvegliare che ci sta. Ogni turno sorvegli perché attacchi con un comandante. Un 3 volante che poi, in qualche caso, ci può anche far pescare. Quindi dai. Sì, occasionalmente ci fa far pescare. Però quello che ci serve di più è per sorvegliare sicuro quando attacca. Sorvegliare che ci dà un bel sorvegliare. Con il comandante, in teoria, riusciamo sempre ad attaccare. Esatto, il comandante sicuramente attacca. Quindi un sorveglia 1 parte tutti i turni. Almeno. Niente, allora, altra modifica. Ti ho tirato fuori il Night Veil Sprite. costa 2, è un 1-2 volante. Quando, ogni volta che attacca, sorvegliamo 1. È forte sorvegliare 1 quando attacca. Il problema è che è un 1-2. È abbastanza piccolino, ok? Che vola, ma lo vedo più come una mossa che si spiaccica. Quindi mi sa che durerebbe sieno un turno. Cioè, poi, devi entrare. Non sorveglia subito. Devi attaccare. Poi metti il caso che, perché ci sta che in commander girino dei volanti o dei raggiungere. Ci sta che poi dopo ce l'hai lì e non attacchi nemmeno e quindi è una creatura inutile. Lui non si potenzia da solo come il nostro comandante che diventa abbastanza grosso. Quindi, secondo me, questo fa una brutta fine alla svelta. Quindi abbiamo deciso di tirarlo via. Al suo posto gli schinieri del fulmine che così danno rapidità e velo e si equipaggiano a zero e proteggono il nostro comandante. Un'altra protezione per il comandante che ci sta perché non ce ne erano. All'occorrenza, se abbiamo sia gli stivali che gli schinieri, abbiamo qualcun altro e abbiamo due creature protette. Esatto. Comunque, due è meglio che uno. Ciù è meglio che zero perché ne avevamo zero di protezione per il comandante. Ecco, la cosa un po' scandalosa di questo mazzo è che non ce n'era dentro nemmeno uno di questi due dove invece con un comandante... Più che altro è un mazzo che punta molto sul comandante quindi non ne hanno approcciati in alcun modo. Poi comunque sono staple di commander ristampate, pluriristampate. Un'altra copia in questo mazzo qua non avrebbero fatto schifo. Sarebbero state utili. Comunque, insomma, sono scelte. Ecco, piuttosto che un tout vessel che è presente ed è anche quella lì una staple molto utile in questo mazzo era più utile mettere uno tra gli stivali e gli schinieri. Altra modifica... Abbiamo deciso di tirar fuori il Phyrexian Metamorph costa 4 di cui un mana ibrido Phyrexiano Blue e possiamo lanciarlo cioè può diventare copia quando entra di una creatura un artefatto sul campo di battaglia in aggiunta è un artefatto dopo. Comunque, sì, carino utile però abbiamo deciso di mettere dentro lo Spark Devil che costa uguale di costo di mana solo che non possiamo pagare le due vite quindi pagheremo sempre 4 mana al posto di 3 quando entra entra come la copia di una creatura o Plainswalker che controlliamo tranne che entra con un più uno più uno su di esso se è una creatura o un segnalino o fedeltà se è un Plainswalker e quel Plainswalker o creatura non sono leggendari. Quindi volendo possiamo anche copiare il Comandante che a sua volta si potenzierà tutte le volte ogni volta che sorvegliamo e attiverà a sua volta l'effetto secondario del Comandante ogni fine turno quindi potenzialmente ci ritorniamo due creature a fine turno. Diciamo che il Phyrexian Metamorph può diventare la copia anche di una creatura degli avversari mentre lo Spar Double solo dei nostri il vantaggio dello Spar Double è che possiamo fare una copia del Comandante quello che punterei di più è fare proprio una copia del Comandante perché comunque volante cautela ci potenzia pian piano in più ci dà quell'effetto lì è abbastanza forte avercene due è abbastanza rognoso non farà danno da Comandante la copia solamente il Comandante principale farà il danno da Comandante però iniziamo a picchiare con dei volanti cautela che iniziano ad essere dei 5-8 cose del genere diventano forti quindi ci sta picchia di brutto niente c'era un'altra carta abbastanza utile l'artefatto costo 1 quello che dicevi costava un botto allora l'artefatto costo 1 che costava tantissimo si quello che si tratteneva i segnalini quando per una creatura lasciava il campo si tratteneva i segnalini ah ho capito allora adesso ve lo mettiamo qui a schermo perché merita una lo zolito merita di essere nominato lo zolito costa 1 è un artefatto leggendario di Ikoria e dice ogni volta una creatura che controlli lascia il campo di battaglia se aveva segnalini su di esso metti quei segnalini su lo zolito all'inizio della combat nel tuo turno se lo zolito ha segnalini su di esso puoi muovere tutti i segnalini dallo zolito su quella creatura bersaglio allora è forte perché se il nostro comandante che ha preso i suoi segnalini più uno più uno con fatica nel tempo viene distrutto perderemo tutto invece lui se li trattiene li tiene lì e quando rigioca il comandante li puoi rimettere su c'è da dire che invece di contro anche le nostre creature che il nostro comandante fa tornare dal cimitero col segnino finale anche quei segnalini finale finiscono sullo zolito quindi se volessimo dare quei segnalini a un'altra creatura che non è il comandante rischia di beccarsi anche i segnalini finali quindi se non è una creatura già ressata diventerebbe una creatura che è come se fosse ressata quindi non passerebbe neanche per il cimitero andrebbe direttamente via quindi diciamo merita di essere nominata ma non l'abbiamo messa dentro più che altro per questa proibizione diciamo che la si può utilizzare principalmente sul comandante se ha segnalini finali accumulati su di essa si non è malvagio non è malvagio e tra l'altro stavo guardando perché avevamo pensato di non metterlo perché dal sito dove stavamo guardando le carte possibili leggermente sinergiche ci lo dava a 40 euro quindi abbiamo detto no è un'aggiunta troppo costosa invece abbiamo aperto car market è sui 20 euro la tendenza degli ultimi giorni il minimo 10 ma ad oggi ce ne sono una sfilza in giapponese e russo non chiedetemi come mai che sono sotto i 15 tra i 10 e i 15 ce ne sono una valanga quindi si non è così una brutta aggiunta dai anzi vi direi andate via a comprare un ozzolito è il momento giusto il momento giusto niente comunque concludiamo qua questa video modifica è stato abbastanza difficile trovarle perché ce ne sono poche di carte che utilizzano il sorvegliare come ci serve anche perché sorvegliare è una meccanica tipica di ravnica da quello che ho visto perché di carte che sorvegliano ce ne sono poche e quindi quelle buone praticamente erano già tutte nel mazzo erano già tutte nel mazzo quindi addirittura ne abbiamo messo una che deve ancora uscire da quante poche ne abbiamo trovate esatto abbiamo dovuto prendere una carta che doveva ancora uscire infatti qua ho loro scritto su scryfall sorvegliare nel testo ci sono solo 106 carte che hanno l'abilità sorvegliare di cui non ho messo il filtro dei colori del mazzo però bisogna togliere le carte che sorvegliano di altri colori anche di altri colori quindi ci sono tante terre ci sono carte con i colori esper che quindi non possiamo mettere in questo mazzo vediamo alcune carte che hanno il nero e il verde quindi insomma non è così facile trovarle anche perché è il numero 106 totali ma poi effettivamente che possono essere giocate in un mazzo dimir ce ne sono molte meno esatto comunque direi che possiamo concludere qua questo video e dall'antimeta è tutto al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti